Elke Steiner, piacere, sono una media. Steiner, certo, una media. Come è successo? Ieri, la regala. E... Ucciderà ancora? Finite a gustare una raffinata cena e vi troverete coinvolti in un gioco esoterico e misterioso. A cena con l'assassino, con lo strano caso di Elke Steiner. Chi dominerà per primo movente e colpevole, vincerà un favoloso premio. Vi aspettiamo! Sabato 17 marzo alle ore 21, a Palazzo Manganelli, piazza Manganelli 16, Catania. Se volete assistere a un amicinio d'antico, non vi restate sempre notare. Grazie a tutti.